La Dublino del XIX secolo è una città povera minacciata dall'epidemia di febbre tifoidea, eppure quando si entra nel Morrison's Hotel gestito dalla querula Mrs. Baker tutto sembra cambiare. I ricchissimi clienti passano le giornate annoiandosi, le cuoche preparano succulenti manicaretti, le cameriere con le vezzose uniformi fanno di tutto per compiacere gli avventori, così come fanno i maggiordomi. E tra questi uno in particolare spicca per la bravura nel compiere il lavoro, Albert Nobbs. Oddio, siete una donna, non farete la spia. Come vi chiamate? La sua vita scorre alla perfezione fino a quando in albergo non arriva il signor Page, robusto in bianchino chiamato a tinteggiare le pareti. Page viene sistemato nella stessa camera di Nobbs, una decisione che getta nello sconforto più grande il cameriere, visto che in realtà è una donna costretta a travestirsi da uomo per avere una possibilità in più di lavorare. Pensando che mi piacerebbe comprare un negozietto, potrebbe servire... Albert Nobbs di Rodrigo Garcia ha dovuto compiere un lungo percorso prima di approdare sul grande schermo. La riuscita del progetto si deve essenzialmente alla caparbietà di Glenn Close, che dopo aver interpretato il personaggio a teatro nel lontano 1982, ha tentato in tutti i modi di realizzare un film. Non siete vestito elegante. Il risultato finale rende merito più alle sue straordinarie doti attoriali che non all'opera cinematografica in sé, raffinata ed elegante nella sua ricostruzione d'epoca, ma eccessivamente trattenuta ed in alcuni punti un po' noiosa. Un negozio avrà grande successo e il nostro matrimonio sarà una meraviglia. Che genere di uomo chiederebbe a una ragazza di sposarlo senza averla mai neppure baciata? Sfruttando un cast di ottimo livello, Rodrigo Garcia mette in scena i rapporti di forza di una società rigidamente strutturata, fondata su giurarchie invalicabili. Resti a lei! Un discorso è il suo, che probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto, se ad interpretare il protagonista non ci fosse stata quella straordinaria attrice che Glenn Close. Penso che voi siate l'uomo più strano che abbia mai incontrato.